Buonasera dalla TGR Toscana in apertura ai temi del lavoro e della sicurezza sul lavoro perché oggi, seconda domenica di ottobre, ricorre la giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Ne parliamo con il nostro ospite in studio, Vincenzo Municchi, presidente del Toscano dell'AMNIL. Buonasera. E oggi ci sono state tante iniziative in Toscana, ad Arezzo, una cerimonia in prefettura a cui hanno preso parte le vedove di Piero Bruni e di Filippo Bagni, i due dipendenti dell'archivio di Stato deceduti meno di un mese fa sul posto di lavoro. Municchi, come possono accadere ancora a tragedie del genere? Si esce per andare al lavoro, si esce di casa e non si torna più? Si può solo condensare in una sola risposta, non ci sono luoghi di lavoro esenti da pericoli e comunque da rischi. I dati nazionali parlano di numeri in aumento, addirittura tre morti al giorno, com'è la situazione in Toscana? La situazione in Toscana nei primi otto mesi di quest'anno, da gennaio a fine agosto, registra un incremento di sette morti rispetto al 2017, cioè 51 nel 2018 contro i 44 nel 2017. Quindi c'è una tendenza all'aumento. Sì. Mentre fino al 2017 c'era... Un sostanziale pareggio, non c'erano variazioni, specialmente nei dicessi. Oggi il Presidente Mattarella ha invitato ad investire in sicurezza. Serve un piano straordinario? Sì, serve un piano straordinario e soprattutto servono collaborazioni, soprattutto a partire dal Ministero del Lavoro e dall'Inaia nazionale, per comunque cercare di dimezzare nel prossimo quinquennio almeno, non solo le denunce di infortunio professionale, ma anche i decessi sul lavoro. Questo è l'obiettivo che si è dato l'AMNI, il dimezzare le vittime sul lavoro nei prossimi cinque anni? Assieme alle istituzioni preposte possiamo lavorare per vedere di raggiungere questo obiettivo. Questo è il nostro obiettivo. È un obiettivo possibile. Sì. Ecco, cosa serve in prima battuta? Ispezioni, controlli? Qualcuno ha lanciato l'idea di una patente a punti per le imprese? Tutto è positivo, anche perché il messaggio che deve passare è che specialmente nei momenti di crisi risparmiare in sicurezza non è un risparmio reale, ma anzi è un aggravio di spese sia per le aziende e soprattutto per la collettività. Perciò investire in sicurezza è un investimento che comunque avrà sempre i suoi ritorni. Ecco, in breve si deve partire dalle scuole. Voi come AMNI siete coinvolti nella formazione dei giovani? Noi abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la regione toscana che prevede la testimonianza di nostri infortunati all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza nelle scuole, sia primarie che secondarie. Grazie. Grazie a Vincenzo Munichi e buon proseguimento per il vostro lavoro, soprattutto con i giovani. Grazie a Vincenzo.